Ragazzi, video improvvisato entrando dalla camera come i bei vecchi tempi. Ho appena letto un annuncio che mi fa gioire, gioire. Il Padova ha trovato l'accordo fino al 30 giugno 2024 con il mister Vincenzo Torrente. Come avevo detto nel pagellone, è una cosa fondamentale riconfermare questo mister e per fortuna, grazie a Dio, grazie a Dio, hanno riconfermato Vincenzo Torrente sulla panchina del Padova. Ole! Una bella notizia in confronto alle pessime notizie che giravano del fatto che ci potrebbe essere una nuova rivoluzione, un nuovo taglio di stipendi come l'anno scorso, insomma. e potrebbero andare via i gioiellini del Padova, tra cui Basic. Ho sentito che lo vuole tipo mezza serie A e ci credo. Il fatto sta che una buona notizia, oggi è il 26 maggio, una buona notizia dopo che, vabbè, siamo stati eliminati, non ho più fatto video, giustamente, col pagellone termina praticamente la stagione 2022-2023. Questa è la prima notizia per la stagione 2023-2024, la riconferma del mister. Sono molto contento, meritatissimo perché comunque ci ha portato da un quattordicesimo posto in quasi in zona play-out. arrivati al quinto posto, abbiamo preso tipo 2-3 gare al massimo in campionato con un mister Vincenzo Torrente. Abbiamo sistemato la difesa. Abbiamo magari da migliorare un po' in fase offensiva, ma quello non è solo compito del mister. Vedremo la società cosa porterà dal mercato e intanto felicissimo di questa riconferma. Grande Vincenzo, continuiamo insieme e speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Nel frattempo questo è tutto. Ci vediamo presto per un prossimo video. Sul Padova probabilmente arriveranno notizie di calcio mercato. per quanto riguarda il Milan, preparatevi domenica, big match. Nel frattempo è tutto. Un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su tutti i social e sempre Forza Padova. Grande Vincenzo!